I fan di Kate e del principe William sono alla disperata ricerca di foto della coppia dopo il doppio battesimo reale che si è svolto durante il fine settimana.I bambini reali della principessa Eugenie e Zara Tindal sono stati battezzati domenica a Windsor. I membri della famiglia reale, inclusa la regina, sono stati raffigurati mentre partecipavano all'evento presso la Royal Lodge nel Windsor Great Park.I fan del duca e della duchessa di Cambridge si sono rivolti a Twitter per ipotizzare se sarebbero emersi scatti della coppia. Secondo quanto riferito, i Cambridge erano tra i reali presenti all'evento di famiglia. Un utente di Twitter con lo pseudonimo chiocciola Love Cambridge trattino basso ha twittato, spero che avremo qualche foto della famiglia reale quando arriveranno ad agosto e al battesimo di Lucas. In un altro tweet hanno aggiunto, foto di William e Catherine. O nessuno li ha visti arrivare lol.Un altro con la maniglia chiocciola Shoba Ray c'ha l'ha risposto, esattamente quello che sto cercando. Un altro, chiocciola Ye con Ray a 10, ha aggiunto, mi sembrava che fossero sul sedile posteriore dell'auto di Peter Philip. La regina, Eugenie, Jack Brooksbank, Zara e Mike Tyndall erano tra i reali raffigurati durante il battesimo. I fan reali sono stati contenti di vedere la monarca in giro dopo che di recente ha dovuto ritirarsi da una serie di impegni. Un utente di Twitter con lo pseudonimo chiocciola Lansi, è così bello vederla fare bene, e in giro. Sono contento che sia arrivata ai battesimi dei suoi pronipoti. Dio benedica HMTQ. Un altro, chiocciola Edercatle 10, ha aggiunto, guardando radioso vostra maesta. Il figlio di Zara e Mike, Lucas Philip, è stato battezzato insieme al figlio di Eugenie e Jack, August. Eugenie è stata vista arrivare alla residenza reale di Windsor poco prima delle 16 di domenica. La regina è stata fotografata mentre si allontanava sul sedile posteriore di una Range Rover nera poco prima delle 17. Il monarca, che all'inizio di questo mese non ha potuto partecipare al servizio domenicale della memoria al cenotafio a causa di una distorsione alla schiena, indossava un cappello verde lime.